Progetto PANEL è un acronimo che sta per percorsi di cura avanzata per il trattamento dei pazienti con nefrite lupica. Un progetto ideato da Nume Plus con il patrocinio di diverse società scientifiche e anche di un'associazione dei pazienti. Nell'ambito di questo progetto che si pone l'obiettivo di individuare le principali criticità che affrontano i pazienti con nefrite lupica ma anche gli stessi clinici nella gestione della malattia è stata condotta una survey su oltre 1300 pazienti dai quali sono emersi alcuni punti critici come per esempio il fatto che soltanto il 25% dei rispondenti riconosce che tracce di sangue nelle urine rappresentino un campanello d'allarme da segnalare al medico. Ci sono ancora falsi miti molto diffusi per esempio l'idea che non sia possibile avere una gravidanza se si soffre di nefrite lupica. Allora per capire quali sono i risultati più significativi della survey ma anche qual è l'impatto che questa malattia può avere sulla quotidianità dei pazienti ascoltiamo gli esperti. Progetto PANEL si è svolto in due meeting. Il secondo ha riguardato la possibilità di trovare delle soluzioni a quelle che sono le criticità emerse. Quali sono le possibili soluzioni che avete individuato? Allora le soluzioni sono essenzialmente di miglioramento del modello di cura su vari aspetti visto che il progetto era appunto multidimensionale. Da una parte la parte clinica è sicuramente quella di individuare soluzioni terapeutiche migliori e più efficienti per applicare le migliori soluzioni mediche. Dall'altra la parte organizzativa e quindi i PDTA laddove non ci sono devono essere comunque inventati dal punto di vista di percorsi più brevi di cura e di maggiore efficienza per quanto riguarda l'assistenza al paziente. E la collaborazione soprattutto tra i vari specialisti è identificare chi può essere lo specialista di riferimento perché spesso questo è venuto fuori essere un grosso handicap. Ed infine la parte che riguarda il paziente e quindi il sostegno al paziente per quanto riguarda sia l'aspetto sociale, psicologico e quindi non soltanto più medico. Alcune delle criticità emerse nell'ambito del progetto Panel sono venute fuori anche da una survey che Nume Plus ha realizzato. Quali sono i due dati più significativi che vogliamo citare? Il primo dato interessante è che a questa survey ha risposto l'80% di pazienti o di loro familiari. Il che vuol dire che abbiamo trovato in un'ampia platea di possibili rispondenti persone che sono sicuramente molto attenti a questo problema. Quindi c'è sicuramente una maggioranza di persone che soffre la malattia ma che ha la continua ricerca di soluzioni. E l'altro aspetto è sui segnali di allarme e ancora c'è una sottostima per esempio quanto riguarda i parametri urinari, in particolare il sangue delle urine che è valutato solo nel 25% dei casi come un segnale a cui dare attenzione. Quindi anche questo è un aspetto che fa riflettere. Nell'ambito del progetto Panel è emersa l'importante ruolo anche delle associazioni dei pazienti che è stata sottolineata anche dai risultati della survey perché molte persone traggono le informazioni online ma anche attraverso i siti come il vostro. Qual è il ruolo dell'associazione di cui lei è presidente nell'informare, nel fare sensibilizzazione sulla nefrite lupica? Noi facciamo tantissime informazioni in ogni ambito, cioè nel senso sia con opuscoli sia con convegni in ogni ambito. Però siamo molto presenti in tutti i social perché questa è la comunicazione e di conseguenza facciamo live, videopillole grazie ai nostri medici che ci danno una mano per fare queste cose. Noi facciamo la corretta informazione e di conseguenza abbiamo una platea di persone che ci seguono in tutte queste comunicazioni che noi diamo. Cerchiamo anche di dare un aspetto informale sulle novità scientifiche, sui centri di cura e quindi ci siamo in ogni ambito. Come pazienti che nella maggior parte dei casi, pazienti di lupus, in alcuni casi anche di nefrite lupica, come si vive ogni giorno la malattia? Allora, la malattia colpisce in prevalenza in età giovanile, in prevalenza donne però soprattutto in età giovanile e di conseguenza quando si è giovani e improvvisamente ti dicono non guarirai mai, è un trauma che poi si supera in base a come va la malattia. Se poi la malattia arriva ad essere una nefrite lupica è molto molto più complesso. Mentre la paura, la paura della dialisi che è quella che caratterizza tutte le persone con una nefrite lupica. Questo noi ci mettiamo molto per la diagnosi precoce perché un farmaco preso in tempi rapidi, l'han detto anche gli esperti, il più delle volte, non sempre, ma il più delle volte fa la sua funzione, devita questo calvario in discesa che è la dialisi. Un paziente con nefrite lupica con dialisi ha una qualità di vita che è assolutamente, è una discesa veramente all'inferno perché è caratterizzato tutto quanto da questi ritmi della dialisi, oltre al fatto di non star bene e poi l'incognita, l'attesa interminabile verso il trapianto.